Amici di FanoTV, buon pomeriggio, buon pomeriggio da Sergio Catalani che vi parla dello storio comunale di Scoppito, provincia dell'Aquila, dove stanno per scendere in campo le formazioni di Alma Juventus Fano in maglia granata con inserti bianco e blu e Lami Ternina, squadra locale in maglia bianca. Dalla parte opposta c'è il numero 11 Gizzi, attenzione vediamo Gucci il tiro e c'è il gol! Niccolò! Gucci! Il vantaggio dell'Alma! Prova a sventagliare verso Gucci, bene Niccolò! Vediamo Gucci, il tocco Gucci! Gucci, Gucci! 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 Niccolò! Gucci! 2-0 Alma! C'è intanto Torbidone che dialoga bene, Torbidone va giù, il rigore, il rigore per Lami Ternina, bomber principe, parte Torbidone, il tiro di Torbidone alle stelle, Torbidone alle stelle, con Ginestra che esulta, giustifica la sua presenza. Proprio all'ultimo dei quattro di recupero, andando a disinnescare un missile di potenza di De Matteis, finisce così con l'Alma che batte 2-0 Lami Ternina in questo campo sempre ostico.